Record del mondo, quindi se vi trovate un titolo del genere non lasciate i like se non avete le corna Va ragazzi per la sua ricamare, siamo qui Oggi con questo nuovo video, oggi ragazzi andremo a fare il record sia ci proviamo di icone Moments E sia comunque nel draft, il record mondiale Quale record delle gole non lo so io Record di 57, invece il record del draft è 194 Ok ci prego, ci sono qui con Harry Laza e HugeGamer Quindi andiamo subito con il draft, ragazzi lasciate subito un mi piace e iscrivetevi al canale Forza partiamo, allora FIFA Points e Gordon Draft L'unico draft che è FIFA Points è questo Ho 15 FIFA Points, ho 300 FIFA Points Fatelo ora ragazzi Allora facciamo estrema perché noi siamo estremi Sì, siamo dei cazzi estremi Noi estremi siamo noi, fate voi Raga Questo ci può stare Nooo, senti, c'è il quattro del difensivo Ah il difensivo, io non me ne ho raccorto Come? Non me ne ho raccorto il primo, ma è raccorto Ragazzi noi non urliamo altrimenti i nostri fan ci dicono che AAAAAAAA Ma perché non lo date sempre nei draft che ha ritardati? Guarda qua c'è Ronaldo, Andre, Harry e Shannon Beh sì Sai Shannon ande farla con le disucchi di senso Guarda qua c'è il record di Icon Moments o quelle Icon in generale? Moments, però c'è anche l'altra Però ricordiamo Icon È giusto Anche che cazzo come l'altro? Noo Qua c'è del pieno È buona Icon Eh ragazzi Ci mettiamo in bocca Che bello questa draft Adesso Cdc Vieni da Vieni da Ehm Scolze Oh 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 Sarese Oh 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 Ragazzi Non ci voglio credere Non ci voglio credere Cinque icone Oh Cinque su cinque ragazzi No no Cdc Cdc Tutto bianco Tutto bianco Vai 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 ancora Nooo Ok ci siamo calmati l'attimo Ragazzi Cdc 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 Sì 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 Bravo Tensia destra Zaretti Eh no Giugio Zaretti Si può uscire? Puyol 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 Tensia destra Nooo Ah beh Cambiamoci un po' raga Ehm Prendi i Piscini Piscini Prendi dove? Piscini Prendi dove? Prendi i Piscini Prendi i Piscini Prendi i Piscini Ehm Icona Dati i WF Record Icona Dati Lamo Stodio Icona Niente Aaaaaaah Ma guardia Ma guardia Ma guardia Ma guardia Ma guardia Ma guardia Mimmo 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 No lo fai inteso Prendi Dai Dai Ho Colasinac Ho Dai Prendi Colasinac Ah Ho Yashin Yashin C'è Lemon Qua c'è Qua c'è Aaaaaaah Yashin Aaaaaaah 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 Due quindi abbiamo già sperato Due Tre quattro cinque Sette icone No no Ma che c'è Tensati Non vale Non è Vabbè Sette icone Due Quattro Sei Siamo a sei No Rega Se Si Le manca una per il record Due per il super Dai 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 Oddio Ma che buona Dati No 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 C'è da fare un buchi C'è da fare un buchi C'è da fare un buchi Aaaaaah C'è da fare un buchi Basta Guarda 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 Oh Le manca una Facciamo un record Ci sfogliamo tutti Io ci voglio Vai Dai Dai Ancora Bravoso Dio Cazzo Che draft è 192 Hai fatto Hai fatto No Guarda 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 Fabinho Mettilo Fabinho Mettilo E togli i piccini Calma Oddio Un'altra Vai C'è la perfetta In disa Vai 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 Con Il diavolo Va Kayako E dai La cerchia all'inizio Berna Berna L'altro No Prego Wright Phillips Vi prego gli esporti Vi prego Dai Vi prego veramente No No E' però Però il record Di icone C'è cazzo La scelta Ce l'ho Trappelli Con Icon Ti prego Ti prego Moment No Aspetta 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 Niente Raga Niente Ultime Due Raga O due Ultime Fate voi Fate voi Raga Vi hanno Giusto Raga Dai Dai Vodavo Sai Entra Nella Storia No 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 Siamo Lo stesso Abbiamo Cazzo Però Comunque No 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 Vai Stratto Si Avelo Giuro Tutto I Occhi Così 192 Da Di Sicuro Lo Fai Però Comunque Credo C'è Record Icon Generale C'è Tra Moments A Beh 1 2 3 4 5 6 8 9 Icon Ragazzi Mai Trovatene Di Giuro La Prima non penso ci siamo in atto con tutta la fula iphone dai comunque l'avevo fatto 9.1 191 ragazzi c'è poteva essere anche di più però peccato veramente per peccato per la panchina perché veramente pazzesco questo draft è prima fare l'ultimo ma l'ultimo un altro da questo tengo forse sicuramente ok con i moduli signori quattro direttamente conteniamoci per ora giusto giusto e non credo bello ma già da 44 da 4 da 4 da 5 non do come già da come parte un drafti si dice proprio in un cioci da prendi e pagare ciò che va ok partiamo da tutti noi vabbè ragazzi non ho già capito l'andante non ho già capito dai ma cos'è c'è 83 e 82 ma prima era spaziale veramente prima vai no rega ho perso le corde di Licata dove vai a Maretà in Sicilia eh sì ciao Licata ciao Licata vai Alex del Piero Alex ma vai se c'è una Dragon subito po boom 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 ma che deve si fare dovessi fare la Premier ma cazzo è perfetto guarda lì una Premier o un francese Premier Famiglia vai oh vabbè 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 al saying in advantages diggie oès fa ecce unicona doppia con Pogby e niente caccaridu caccaridu l'epis ngula tutte e juvendina ah no tallna ma 어� vediamo Sorrentino che fa molte pavate con te somme somme terzi a destra quale zanetti icon ragà la cos'è sto schifo troppo o niente c'è molto di fare intesa almeno con fabbricio tipo fabbricio va britta post poi andrea o maro naldo chiago si è uscito un altro privato fanno rima sempre aspettare che va dove da così per un 193 si stai conto a schermato fino a 9 ok raga è tutta la questione di algoritmi aiutato il fatto che era offline quello la non lo so sono mesi che non so ieri che l'ho fatto però non cambiava niente a verzi di conor e cora questo è trovabile nel mercato è stinto e ho trovato bene la miniatura a sardi a sardi a sardi a sardi ok ti serve un portiere della serie a un icono alessandro ottimo portiere marcello alessandro l'inca benissimo ma con cui voli dai 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 dati andando che portiere fabbricchi della serie a prendere più da seri male male non è più perché non è stato in seriata o icon o l'acido bello e voluto anche scrive a manata di un portiere fare ok è un popolo bianca dai condompliano l'abbia è una roba rosina ua via dove giocarono di loro bovino d'accordo con il fifa eravamo forti di voluto il pelatore schiacci culoni dei con color off ma è finita perché è la b si legge f a torino a serie che lo mette a destra e fa più 4 che draft ragazzi mi sono emozionato prima ci speravo solo un buon lavoro e esco dal catrame ho preso il cacciapugnino mi fai più male dai 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 palazzi al mare con una salute in collina se sei vado per a questo punto del video commenta la tua con la tua data di nascita quindi ragazze abbiamo fatto 189 in teoria c'è veramente uno dei video più amici che abbiamo registrato oltre al l'audio ricordi il retro ma mi vedo potrà che non parlava così tanto il video ragazzi io me lo voglio farvi vedere perché veramente assurdo facciare vedere ricordiamo l'icona perché magari l'abbiamo votato bene e raga ricordiamo di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 come ragazzi più belle 10 più bacario con 10 10 comunque ragazzi spero che questo draft vi sia piaciuto uno dei miei migliori forse anche al mondo sicuro data dino fius e rilazzo è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video bella ragazzi